Oltre 26 milioni di euro destinati ai lavoratori e alle imprese di Milano. Questo è l'impegno economico che negli ultimi due anni sotto la regia del Comune Lombardo si è tradotto in progetti e incentivi per sostenere l'occupazione e rilanciare la crescita produttiva sul territorio. Un impegno che l'amministrazione milanese ha confermato anche in questo 2014 con un ulteriore stanziamento di 700 mila euro destinati alle attività imprenditoriali che decideranno di assumere i lavoratori maggiormente in difficoltà come esodati over 45 e cassi integrati. A parlarne è proprio la pugliese Cristina Tajani, assessore alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca del Comune Lombardo. Insieme alle misure di sostegno all'occupazione l'amministrazione ha fatto un enorme sforzo anche in termini di risorse investite nella promozione di nuove imprese e nel sostegno del sistema delle piccole e medie imprese del nostro territorio attraverso incentivi all'innovazione tecnologica oppure misure di abbattimento dei tassi di interesse rispetto al credito o misure di incubazione per nuove imprese. Milano è ancora la città che attrae per ragioni di studio, per ragioni di lavoro, il maggior numero di persone dalle altre regioni. Rispetto ai nostri interventi molti sostengono i cittadini milanesi, altri invece, penso a quelli immaginati insieme a Camera di Commercio, a Fondazione Welfare, si rivolgono ad una platea più ampia di persone che vivono oppure lavorano pur non essendo residenti nella città di Milano.